Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Un vigile del fuoco, Antonio Ciccorelli, ha tragicamente perso la vita durante un intervento di soccorso nella provincia di Foggia, colpita da un'ondata di maltempo. Ciccorelli e un collega, che è riuscito a salvarsi, stavano intervenendo sulla strada provinciale Strada Provinciale 30, tra San Severo e Torre Maggiore, per aiutare un'automobilista la cui vettura era rimasta bloccata a causa delle forti piogge. Mentre erano sul posto, un'improvvisa e violenta ondata d'acqua ha travolto sia il mezzo dei soccorritori sia l'auto in panne. Purtroppo, Ciccorelli non è riuscito a mettersi in salvo. Il collega che era con lui, fortunatamente, è scampato alla tragedia. La zona è stata duramente colpita dalle condizioni meteorologiche estreme, che hanno causato allagamenti e danni diffusi. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima.